Musica Buongiorno. Allora, il tema della giornata di oggi, lo sapete, è radice al futuro. Io vivo all'estero, un lavoro all'estero, quando mi parlano di Treviso e delle mie radici mi viene un colpo allo stomaco, perché se siete stati anche voi un po' in astinenza da radicchio potete sapere quanto difficile sia. Ecco però, penso che di radicchio siate esperti anche voi, non è di questo che voglio parlarvi, voglio parlarvi di quello che mi tiene lontana da Treviso e da radicchio. Voglio parlarvi del mio lavoro, mi occupo di scienza appunto, e quindi vi parlerò delle radici della scienza. Allora, di solito quando si parla di scienza, spesso nel dibattito pubblico, si è in mente più tecnologia, no? Le applicazioni della scienza. Le cose di cui mi occupo io invece sono lontane delle applicazioni. Mi occupo di fisica teorica e mi occupo di cercare di studiare l'universo su grandissima scala e lo spazio e il tempo sulla scala più piccola dove agiscono le leggi della meccanica quantistica. Cerco di costruire una nuova teoria che metto tutte queste cose assieme. Come si fa? Si fa ovviamente con la matematica, si fa scrivendo equazioni, ma soprattutto quello che noi facciamo quando discutiamo, quando cerchiamo di costruire queste nuove teorie, quello che stiamo facendo è cercare un nuovo modo per vedere il mondo, una nuova visione, un nuovo modo per pensare come funziona il mondo attorno a noi. Ecco, allora, costruire una nuova teoria è un po' come costruire un edificio. È un sottile gioco di equilibri in cui tutto deve stare in armonia. Allora, attenzione, perché la scienza non è semplicemente un processo cumulativo in cui costruisco aggiungendo un piano uno sopra l'altro. No. Quello che noi facciamo, vi dicevo, è fisica fondamentale. Significa che andiamo a guardare le fondamenta. Andiamo a guardare se alla base del nostro edificio magari c'è qualche palo che adesso è marcio e bisogna sostituirlo. Oppure potrebbe succedere che questo edificio continua a crescere, a espandersi e a un certo punto in questo gioco di equilibri l'edificio non poggia più su uno di questi pilastri. E allora può succedere che sia meglio togliere completamente questo pilastro. Quindi, alla base della scienza c'è sempre un rimettere in questione ogni cosa, ogni cosa, perfino le proprie radici, perfino le proprie fondamenta. Quando facciamo questo, all'inizio, è sempre un atto di ribellione. Allora, a me viene da pensare a quel momento nella storia in cui per la prima volta, almeno per quello che noi sappiamo, qualcuno ha fatto questo atto di coraggio, questo atto di ribellione. C'è un momento nella storia dell'umanità e nella storia del pensiero in cui si crea qualcosa di nuovo, in cui, per la prima volta, invece che il sapere, il sapere non cresce più per un atto di fede. Agli allievi non viene più chiesto di imparare a memoria quello che gli insegna il proprio maestro. Alla fede si sostituisce il pensiero critico. Se volete, alla fede si sostituisce la fiducia, la fiducia non solo che ha l'allievo verso il maestro, ma anche del maestro verso l'allievo, che si mette sullo stesso piano e permette al suo allievo di criticarlo. Allora vi dicevo, c'è un momento nella storia dell'umanità, in cui questo, per quello che noi sappiamo, è successo per la prima volta, ed è sulle sponde di quella che è oggi la Turchia, a Mileto. Siamo nel VI secolo a.C. e a Mileto vive quello che al tempo era il più grande sapiente del tempo, Talete. La scuola di Mileto è la scuola fondata da Talete, si caratterizza proprio per questo dibattito interno. Gli studenti di Talete, Anassimene, Anassimandro, prendono le teorie di Talete, le assorbono, fanno una specie di quello che chiamo un gesto d'amore, perché solamente nel momento in cui si conosce profondamente la teoria sulla quale si sta lavorando, si può capire dove si può andare a cambiarla per rendere migliore. Questo fanno gli allievi di Talete, cambiano le teorie del loro maestro, però in questo modo le rendono vive, danno la possibilità a queste teorie di continuare nel tempo e a migliorarsi. Allora, succede anche qualcos'altro a Mileto. Succede che per la prima volta, appunto, si sostituisce ad un atto di fede, a una spiegazione data in termini di qualche storia, su qualche divinità, si sostituisce, appunto, dicevamo, il pensiero critico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se pioveva, se c'era un tuono, precedentemente veniva il sacerdote e ci raccontava che sì, c'era Zeus, che si era arrabbiato, aveva scagliato il tuono, aveva fatto venire la pioggia. Per la prima volta, Anassimandro propone che la pioggia sia un fenomeno naturale, sia un fenomeno che possiamo capire razionalmente, e propone che ci sia tutto un ciclo dell'acqua che lo spiega. Propone anche altre teorie, altre teorie, per l'appunto, teorie naturalistiche, che permettono di spiegare i fenomeni naturali. Allora, vedete, a Mileto non ci sono più le leggi della natura, le leggi del cielo date dagli dèi, dai sacerdoti, ma ci sono delle leggi della natura che gli uomini costruiscono discutendo tra di loro. Allora non è un caso che questo succeda proprio nello stesso posto in cui c'è il primo parlamento dell'umanità. A Mileto c'è un anfiteatro in cui i rappresentanti delle diverse città ioniche si trovavano per discutere delle leggi comuni. Quindi non più un re, una divinità, un sacerdote che detta le leggi, ma un insieme di uomini che crea delle leggi per gli uomini. Crea delle leggi discutendo, incontrandosi. E Mileto è infatti un punto d'incontro. È il collegamento tra l'Oriente, arrivano le carovane dei mercanti dall'Oriente, dall'Asia, e da Mileto partono poi i coloni che arriveranno nel sud dell'Italia. Mileto è anche il posto dove arriva il sapere antico. Al tempo il sapere degli egiziani, di Babilonia, era già un sapere antico, di cui però a Mileto si discute e si ha notizia. Allora, tutti questi fattori, il fatto che ci sia una discussione democratica delle leggi, il fatto che ci sia un mescolamento di genti, non sono forse proprio questi stessi fattori che hanno reso più di mille anni più tardi Venezia. Quell'incredibile luogo, la chiamavano la Porta d'Oriente, no? Era il luogo dove popoli diversi si incontravano, arrivava gente da tutto il mondo, e da Venezia partivano i mercanti in tutte le direzioni a cercare nuove merce, a incontrare nuovi popoli. Venezia era una repubblica, le leggi venivano discusse, Venezia era laica, quindi grazie a questo Venezia è diventato il centro in cui venivano stampati libri scientifici che altrimenti sarebbero stati messi a rogo in altri posti. A Venezia venivano stampati e venivano distribuiti in tutta Europa. E sempre la laicità, l'indipendenza dalla chiesa, ha permesso la fondazione di una delle più antiche università del mondo. Studenti che fuggivano da Bologna e dalle altre città dove potevano essere perseguiti dal potere religioso, trovavano rifugio a Venezia e nella Repubblica Veneziana quindi abbiamo anche un centro scientifico. Ecco, tutti questi valori, la ribellione, la ribellione colta di cui parlavo prima, la laicità, la democrazia, l'apertura, il mescolamento, questi sono tutti i valori che posso chiamare le mie radici. Che attenzione, quando parliamo di radici non parliamo mai del passato. Non voglio portarmi dietro tutto il passato, non voglio portarmi dietro le guerre, l'odio. Quando parliamo di radici facciamo una scelta, facciamo una scelta dei valori che sono importanti per noi oggi, per il presente e per il futuro. Allora, questi sono valori che io posso portare con me, posso portarli nella comunità scientifica nella quale lavoro e nella quale vivo. Questa grande famiglia di ricercatori accumunati dalla passione per qualche teoria strana, per qualche sfida scientifica. Io ho avuto la fortuna di lavorare in questo ambiente dove posso incontrare e lavorare assieme, come io li chiamo i miei fratelli accademici, tanta è la condivisione, passi intere giornate a discutere assieme. Questi fratelli accademici vengono da tutto il mondo. Questa ricchezza umana è una delle cose che amo di più nel mio lavoro. Ecco, vi racconto tutto questo con emozione, perché mi sono resa conto che è un momento un po' particolare della mia vita. Mi sono resa conto che sono esattamente tanti anni che sono stata via da Treviso quanti quelli che ho vissuto qui. sono andata via, ho conosciuto persone diverse, sono cresciuta, sono anche cambiata. Non c'è più un posto unico che posso chiamare casa. Ci sono tante case. Però non sono solo io che sono cambiata. Anche Treviso cambia. Anche Treviso, per fortuna, nonostante le sacche di ignoranza, di razzismo e di fascismo che purtroppo ancora ci sono, nonostante tutto questo, c'è una città che cresce, che si apre. Una città più colorata e una città che crea. E io in questa città posso ancora sentirmi a casa. Grazie.